Ciao, sono Paolo Valci e vi presento questa caravan Weissberg 550, una caravan comoda per famiglia. Vi faccio vedere la porta di ingresso, guardate, bella ampia e facile l'accesso. Qui la parte anteriore, guardate, eccomi qua, quindi un enorme letto illuminato, ognuno ha la sua luce. Guardate l'attenzione, qui un bel porta documenti, tablet, giornali, dei grandi pensili molto capienti, il suo comodino con un altro sportello, poi la zona giorno. Come in altre filmate abbiamo detto, questa roulotte può essere o una quattro persone, cioè due davanti, tre e quattro, oppure anche cinque, buttando giù questo tavolo, oppure cinque, sei, facendolo diventare un matrimoniale. Quando si sta al campeggio, allora è una roulotte che, pensatela con la veranda, da quindi avere sei persone all'interno, anche d'inverno ci si sta bene, perché oltretutto sono già tutte complete di stufa e scaldacqua. I tre fuochi, piani di appoggio, un bel lavello, guardate con che finitura questi belli cassetti. E qua, suo pensile illuminato, il frigorifero, e poi l'armadio, e poi i due singoli. Ora vi faccio vedere, perché se avete anche un ragazzo grande, io sono un metro e ottanta, e eccomi qua, ora è tutto plastica, quindi sono con le scarpe, però ecco, guardate che ci sto tranquillo. Oppure, se avete un bambino piccolo, questa è la sua protezione, quindi sicuro, sale facilmente e entra nel suo regno, perché a volte un bambino piccolo, qui sopra, ci mettete tutti i giochi in fondo e si neutralizza, che la mattina, se si sveglia presto, si mette a giocare o la sera uguale. E ora andiamo nel bagno, perché il bagno è un bagno molto grande, qui c'è la doccia, guardate che mi muovo con estrema facilità. Qua il water, eccomi qua. la finestra e il funghetto in alto. Il, la cassettiera, qua sotto. e poi anche il lavandino, ci si lava bene. Quindi, vi aspetto, vi aspettiamo per farvi vedere questa bella roulotte, bella, grande e confortevole, con grandi servizi e ottimi prezzi caravambaci. Ciao!